allora non me ne frega niente riconoscerete il posto vedendo quel lago qui ma ragazzi qua non può esistere una roba del genere cioè così così questi due questi due guardate questo che roba poi guardate questo due così attaccati al sentiero qua sotto che figata ora sempre qui da questo lago a proposito se riconoscete il posto non scrivetelo nei commenti così magari non ci vanno 2000 persone e qua un altro boccio pazzesco guardate che bello allora sì probabilmente sono un toni allora lì ce n'erano due che è quelli che abbiamo trovato lì no poi qua sotto stavo per andare via guardate cosa c'è ci sono due gemelli in mezzo al muschio qua no vabbè questi sono una roba spettacolare cioè guardate dove sono praticamente in una fossa e qua questi due meraviglia qui questi sono veramente due gioielli pazzeschi allora da qui abbiamo fatto uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici passi ragazzi dodici passi per trovare questa bellezza qua questa veramente bella super sano super sano di cui suo fratello qua sotto e può darci che ce ne siano altri adesso magari altri dieci passi ne troviamo ancora e ci sono porcini super sani vedete che roba allora praticamente come dicevo lì abbiamo trovato gli altri no lì giù sono venuto qua dietro qua dietro guardate che roba qui in mezzo i mertelli chiamiamo giacomo e giacomo c'è giltruda un altro qui qui c'era il piccolino che l'ho già perso ragazzi sono veramente scarso dove cavolo era perché ce n'era un altro non è qua ecco l'altro che bello che roba che roba che roba che roba che roba che roba allora ragazzi adesso vi faccio vedere una roba perché siamo al aspettate eh siamo a 1790 metri sabato 5 agosto e lo spettacolo ragazzi lo spettacolo ragazzi stesso posto parlo a bassa voce perché mi stanno pedinando c'è un fungaiolo che che ci ha sentito e quindi è venuto qui sempre qua distanza tra quattro metri ce n'è subito un altro qui dicevo ce n'è subito un altro qui qua piccolino poi c'è un altro fratello qua sotto guardate che bello tutti i freschi stanno nascendo ragazzi stanno nascendo che roba che roba guardate che spettacolo funghi perfetti sono duri come il marmo sentite che sono duri come il marmo ti rintesta uno lo ammazzi non sto capendo giuro non sto capendo se sto andando a Finferley o a Porcini cioè qua c'è un altro ragazzi c'è un altro incredibile questo delle palle atomiche perfette ma che roba questo è una roba assurda tutta roba meravigliosa niente ragazzi oggi è giornata a Finferley un altro Finferley decisamente grosso guardate che Finferley qui è un Finferley da record cioè io un Finferley così non l'ho mai visto un Finferley del genere guardate che roba no scherzo ragazzi comunque è un bellissimo porcino prima che scriviate nei commenti guardate che roba sarà il boh ventesimo fungo trentesimo fungo che trovo in quella fungaia qua ragazzi contati li ho contati sono trentadue con questo meraviglioso qua cioè questo ragazzi è veramente vabbè io ragazzi sono troppo contento ormai ho perso la testa la diga roba questo è veramente una roba assurda meraviglioso da solo qui nel prato lui da solo qui bellissimo lui ha capito tutto lui ha capito tutto grandi ragazzi se siete arrivati fino a questo punto del video io vi ringrazio dai porcini del trentino era tutto se il video vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche così non vi perderete nuovi video e noi ci vediamo in una prossima buttata di funghi con porcini ancora più grossi grazie a tutti